Un richiamo forte e chiaro alla responsabilità. Il presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, Moena Scala, ha scelto il giorno in cui ha compiuto il primo anniversario della sua nomina sullo scanno più alto del Consiglio per bacchettare proprio i consiglieri dell'opposizione, alcuni dei quali in questi mesi l'hanno presa più volte di mira. Chi ha contribuito, ha detto la pentastellata Scala, in apertura del Consiglio Comunale dedicata al bilancio di previsione, a determinare in questi mesi un clima di tensione, di imporsi la riflessione. Le istituzioni pubbliche devono agire nel rispetto delle regole, invece spesso si è assistito nei miei confronti a un ciarpame politico infarcito di attacchi personali per infondere terrorismo politico con una insensata caccia all'untore. Il presidente Scala parla di ricatteria politica e poi reagisce, se qualcuno pensa di intimidirmi ha trovato pane per i suoi denti, esigo rigore istituzionale e auspico un cambio di passo per il futuro. Grazie a tutti!